Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo con l'analisi delle biografie dei generali italiani parlando di Ubaldo Soddu. Ubaldo Soddu ha una sua consistenza assolutamente determinante per comprendere gli scenari del primo semestre della Seconda Guerra Mondiale operato dall'Italia. Partiamo però dalla sua nascita. Soddu nacque nel 1883 a Salerno e circa ventenne iniziò la sua carriera militare frequentando i corsi della scuola militare di Modena da cui uscì come sottotelente di fanteria. In questo senso tra l'altro a Modena ebbe modo di avere come compagno di corso Sebastiano Visconti Prasca avrebbero avuto negli anni una serie di incontri più o meno felici. Tornando a Soddu, Soddu quindi iniziò la sua carriera come subalterno di fanteria, partecipò alla Guerra di Libia che fu la prima occasione in cui si poteva mostrare nelle sue competenze, era ormai capitano di aver fatto una serie di incarichi in guarnigione e rimarrà in Libia per diversi anni anche nei primi anni della Prima Guerra Mondiale tant'è che appunto in questo periodo dall'11 al 17 maturerà tutta una serie di esperienze e di promozioni fino al grado di tenente colonnello oltre a una serie anche di decorazioni che gli permisero di trovarsi in una certa autorevolezza anche se lontano dal fronte principale della Prima Guerra Mondiale. Tornò in Italia nel 17 dove in realtà è stato molto poco perché venne subito inviato con il corpo d'armata in Francia e quindi passò sostanzialmente l'ultimo anno di guerra sul fronte occidentale dove tra l'altro comandò sia un battaglione che anche in forma interinale un reggimento e ottenne tra l'altro ben due medaglie d'argento al valore militare e un'altra serie di decorazioni tra cui anche decorazioni francesi. Tornò quindi nel 1918 in Italia e ebbe modo di passare un breve periodo, un semestre presso il comando supremo di Diaz, quindi ebbe anche a irrobustire la sua esperienza, le sue competenze dopo aver avuto sia in Libia che in Francia tutta una serie di competenze, di incarichi sia di comando effettivo sia di Stato Maggiore. Quindi da questo punto di vista sapeva il fatto suo, non era uno sprobeduto. Alla fine della guerra iniziò un ciclo di formazione sia come discente che come docente iniziando dalla scuola di guerra, tra l'altro già prima della guerra di Libia aveva avuto modo di fare il docente presso la scuola centrale di Fanteria di Parma quindi da questo punto di vista l'elemento didattico avrà una sua evoluzione e una sua caratterizzazione del personaggio tant'è che era anche una penna abbastanza efficace che aveva scritto alcuni studi di carattere storico e storico-militare che gli avrebbero permesso negli anni a seguire di farsi ben considerare. Quindi gli anni venti sostanzialmente passarono con una serie di incarichi venne nel frattempo promosso anche colonnello una serie di incarichi presso la scuola di guerra dove appunto era uscito anche primo classificato nel corso di Stato Maggiore poi passò a Napoli al collegio militare e quindi aveva un suo slancio non indifferente poi comandò un reggimento fino ad arrivare con il grado di colonnello nel 1934 ad essere appunto nominato capo di gabinetto del sottosegretario Baistrocchi Baistrocchi appunto erano della stessa regione Baistrocchi era napoletano, poi era selernitano e quindi si creò un certo afflato una notevole collaborazione proprio in un periodo molto dinamico per il ministero della guerra tra l'altro appunto Baistrocchi si divideva tra i due ruoli di sottosegretario e capo di Stato Maggiore dell'esercito lasciando a secondo dei casi più spazio a Pariani come sotto capo di Stato Maggiore dell'esercito oppure allo stesso Soddu come capo di gabinetto e Soddu divenne sostanzialmente un perno di tutte le riforme realizzate o mancate che si sarebbero andate susseguendo per tutti gli anni 30 divenne tra l'altro Soddu un aiutante un consigliere e anche un esecutore molto preciso e molto attivo proprio perché tra il 1934 e il 1936 vi fu tutta una manovra di palazzo per contendersi il comando effettivo delle truppe in Africa orientale per la guerra di Etiopia quindi passò il comando da De Bono a Badoglio ma in questo scontro, in questo duello non mancò anche lo zampino del ministero e dello Stato Maggiore ovviamente da parte di Baistrocchi che cercava in qualche modo di inserirsi sia nelle maglie dei comandi sia appunto nel riuscire a decidere a contribuire a decidere nelle volontà di Mussolini e in questo senso appunto Soddu fu un fedele collaboratore di Baistrocchi in questo senso anche se poi sostanzialmente Baistrocchi non riuscì nell'intento di porsi come capo effettivo delle truppe in Africa orientale e nonostante ciò la carriera di Soddu proseguì era stato già promosso generale di brigata appunto al ministero venne incaricato prima in maniera interinale poi come effettivo come comandante della divisione Grandia di Sardegna a Roma il fatto di essere a Roma è un elemento di spicco perché appunto avere un comando a Roma significava comunque essere sempre vicino alla stanza dei bottoni tant'è che appunto il periodo di comando di reparto poi fu funzionale appunto trovandosi a Roma a tornare a via 20 Settembre in questo caso divenne sotto capo di stato maggiore dell'esercito come vice di Pariani che a quel punto era lui a ricoprire il doppio incarico di sottosegretario alla guerra e di capo di stato maggiore dell'esercito quindi in questo senso Soddu come sotto capo di stato maggiore dell'esercito aveva sicuramente voce in capitolo in tutta una serie di argomenti di modifiche, di riforme appunto quelle che poi sarebbero state sostanzialmente le riforme Pariani nell'ordinamento ma non solo quindi diciamo l'elemento principale è la trasformazione della divisione da ternaria a binaria ma non è solo quello è anche tutto un discorso sulle truppe corazzate sulla dinamicità della guerra che in qualche modo si voleva proseguire il discorso fatto da da Baistrocchi però con risorse molto minori quindi vi era pure la necessità di dover accontentare Mussolini nell'avere uno sforzo una proiezione efficace verso l'esterno ma con magrissime risorse economiche in questo sodo fu molto efficace nel secondare la volontà di Mussolini poi per i risultati lo vedremo nella prosecuzione della sua biografia è stato di fatto appunto che questa sua partecipazione questa sua collaborazione che ripeto divenne anche dottrinaria perché appunto continuò a difendere anche attraverso dei suoi scritti le decisioni ordinamentali di quel periodo che gli garantirono alla fine del 39 quando vi fu un nuovo giro di giostra nella nomina degli incarichi quindi se Graziani divenne il capo di stato maggiore dell'esercito Soddu ereditò il ruolo di sottosegretario alla guerra quindi in questo senso nel 39 vennero di nuovo divisi i due incarichi quello politico e quello tecnico al vertice della forza armata di conseguenza iniziò una coabitazione con Graziani piuttosto articolata piuttosto anche conflittuale però tutta finalizzata al desiderio di sempre secondare le volontà volubili di Mussolini nel preparare la guerra senza però grossi impegni sia di natura operativa che soprattutto di natura economica e finanziaria quindi si arrivò alla primavera del 40 con una preparazione assolutamente deficitaria sia sotto l'aspetto ordinamentale sia sotto l'aspetto anche operativo visto che non vi erano state neanche delle collaborazioni delle conversazioni efficaci con la Germania quindi la Germania poi proseguì sostanzialmente contribuire a Germania ad essere molto autonoma a non relazionarsi a non dare molto peso all'alleanza con l'Italia per poi ovviamente rinfacciarglielo però in questo senso il sottosegretario Soddu non fece molto di più di quello che sembrava il minimo sindacale nella preparazione della guerra la situazione si è rese ancora più impellente a fine maggio i primi di giugno appunto quando il 10 giugno venne tirata la guerra e Soddu cerca un po' di fare l'agrobata cercando un po' di recuperare quell'anima ternaria che era stata appunto del tutto smontata con la riforma pariani quindi si cercò di dare una cosiddetta terza gamba alla divisione e non si trovò un migliore soluzione che inserire una legione della milizia accanto a due reggimenti di fanteria però capite bene che una legione della milizia non valeva un reggimento di fanteria era grossomodo dell'entità di un battaglione quindi la forma ternaria era molto difficile che potesse ritornare con la situazione pre-1938 e l'elemento premiante per Soddu in questo magro risultato fu un gioco di sponda nei confronti di Vittorio Emanuele III nella gestione delle deleghe del comando supremo secondo lo statuto Albertino il comandante supremo delle forze armate era il re e Soddu riuscì attraverso un gioco di sponda a creare una normativa che garantisse a Mussolini la delega da parte del re che poi a sua volta avrebbe delegato sotto l'aspetto operativo Badoglio come capo di stato maggiore generale quindi in questo senso vi fu una sorta di triangolazione e grazie all'intercessione di Soddu che aveva argomentazioni ben calibrate nei confronti di Vittorio Emanuele III Mussolini se ne avvantaggiò e lo premiò Soddu con l'ulteriore incarico di sotto capo di stato maggiore generale quindi tornava il sottosegretario ad avere due incarichi quello politico e quello operativo perché fece ciò? Fecece ciò essenzialmente per premiare Soddu ma anche per mettere una sorta di pungolo di contraltare lo stesso Badoglio come capo di stato maggiore generale e comandante effettivo delle forze armate quindi vi era una sorta di ulteriore bilanciamento e di laccio e lacciola di controllo reciproco tra i ruoli ovviamente questo non era funzionale alla operatività alla gestione della guerra come ben potete capire e questi risultati si viderono nel secondo semestre del 40 quando tutte le operazioni in essere o in programma fallirono senza possibilità di appello e la situazione più grottesca la si vide appunto nell'estate autunno del 40 quando vennero preparate tutta una serie di operazioni che andavano un po' in contrasto tra di loro attacco in Egitto possibile attacco alla Grecia possibile attacco alla Jugoslavia possibile conquista occupazione della Francia quindi di quello che restava della Francia quindi in questo senso si andò un po' a giocare un po' a ruota libera con chi più ne ha più ne metta e tutto ciò anche sommandosi una parziale smobilitazione nell'ottobre del 40 quando appunto vennero smobilitati circa 800.000 soldati per sia dare sensazione alla popolazione che la guerra era sostanzialmente finita ma anche di dare braccia all'agricoltura visto che c'era la problematica delle licenze agrarie in tutto ciò venne preparata la campagna di Grecia sulla campagna di Grecia abbiamo già parlato nel video su Visconti Prasca ma vale la pena ribadirlo anche in questo senso in questo marasma appunto Soddu si trovò un po' a dare un po' a prendere cercando di convincere un po' tutti un po' la sorta di megafono di Mussolini in cui sostanzialmente la Grecia era già sconfitta in partenza non si sarebbe dovuto neanche combattere quindi era sufficiente un pugno di uomini per soggiocare la Grecia la realtà fu ben diversa anche perché eravamo già arrivati a fine ottobre con un clima con una realtà sia atmosferica ma anche politica in cui la Grecia non era più sprovveduta non era più ignara degli interessi e degli obiettivi dell'Italia tante appunto la resistenza in Grecia fu molto più molto più cospicua molto più efficace di quello che si potesse immaginare poi oltre al fatto che Visconti Prasca non era probabilmente anzi non era sicuramente l'uomo adatto per quella circostanza quindi Soddu si trovò sostanzialmente a fare le scarpe a Visconti Prasca l'aveva un po' sedotto e poi abbandonato prendendone il posto e ottenendo tra l'altro anche due autopromozioni ebbene sì Soddu in quanto era sottosegretario di Stato riuscì nel giro di una settimana a autopromuoversi firmò lui stesso le sue promozioni quindi passò nel giro di una settimana da generale di corpo d'armata a generale designato d'armata a generale d'armata comandante un gruppo d'armate in Grecia avete capito bene si è autopromosso due gradi in una settimana e fece le scarpe a Visconti Prasca però nella legge del contrappasso chi semina vento raccoglie tempesta il suo comando durò appena un mese perché la situazione da tragica si fece ancora più tragica e anche forse grottesca non è inutile raccontare come Soddu nei momenti di pausa della campagna di Grecia componesse musiche per film in tutto questo marasma riusciva anche a fare queste cose da di fatto che appunto la situazione fu ancora più drammatica e già i primi di dicembre del 40 venne sostanzialmente sostituito da Cavallero il nuovo astro nascente dell'esercito italiano che appunto lo rese del tutto inutile alla fine dell'anno tant'è che gli era venuto anche un esaurimento nervoso a Soddu per la pressione per tutto quello da sovraccarico di anche incarichi perché nel periodo di albanese in cui si trovava in Albania contro la Grecia sommava tre ben tre ruoli sommava l'incarico di sottosegretario alla guerra l'incarico di sotto capo di stato maggiore generale e l'incarico di comandante superiore delle truppe in Albania quindi capite bene che reggeva tre cose di cui due incarichi erano a Roma il ministero per farvi capire era gestito da un colonnello come capo di gabinetto e ho detto tutto a questo punto di conseguenza venne rimpatriato anche malconcio nello spirito e nel corpo e sostanzialmente venne messo in prevenzionamento e inizia così una sua vita da sostanzialmente pensionato reglietto e lasciato ai margini proseguì il periodo bellico senza nessun onore e nessun onere dopo l'otto settembre venne anche arrestato perché appunto aveva dato fastidio a Badoglio quindi Badoglio si vendicò un po' come il conte di Montecristo fino ad essere arrestato e poi essere liberato per volontà sovrana un po' seguì le vicende di Cavallero nel periodo post 25 luglio e a differenza di Cavallero appunto con una sua misturosa morte sopravvisse andò al nord giurò fedeltà alla Repubblica Sociale senza però avere incarichi né compromissioni di nessun tipo alla fine scrisse un memoriale che neanche pubblicò e morì nel 49 senza grossi strascichi né onori né oneri né glorie né elementi di negatività chiuse così la sua vita e la sua carriera fu un uomo veramente misero nefasto che portò solo disgrazie all'esercio italiano e allo stato italiano e alla patria e così finì un po' nel dimenticatoio non mi venne addebitato nulla non ebbe nulla a pretendere né altro un personaggio che purtroppo ha scaldato troppe poltrone e ha creato solo lutti e morti grazie ancora per l'attenzione vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao